Amici 3B Meteo, bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà pressione atmosferica relativamente alta sull'Italia, infatti sarà una giornata discreta ma dal nord Africa si avvicinano dei sistemi nuvolosi e in effetti guardiamo le nuvole previste sull'Italia, saranno poche per la verità, ma guardate questo ammasso nuvoloso che già raggiunge la Sardegna in giornate e poi punta verso il nostro paese, preannuncia un peggioramento del tempo per la giornata di lunedì ma andiamo a vedere le piogge previste per domenica che in realtà saranno pochissime però nel pomeriggio i classici temporali su Alpi, Prealpi, lungo l'Appennino si formeranno, comunque molto localizzati e invece verso fine giornata arrivano delle piogge sulla Sardegna che poi appunto lunedì raggiungeranno molte zone del centro nord quindi in definitiva domenica di bel tempo con ampie zone di sereno in gran parte del paese i temporali nel pomeriggio sulle zone montuose e poi come vi dicevo a fine giornata un peggioramento sulla Sardegna con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com